Questa è la prima divisa, marchiata macro e marchiata soprattutto Melagodo. Ringraziamo una volta di più Andrea Bosso per aver segnato questa mano incredibile senza la quale non l'avremmo potuto fare altrimenti. Seconda divisa della SD Stay of Party, con il solo 1-8 che difficilmente vorrà accettare da qualcuno. Questa è la società. Dovrei dire che un degno campionato è una salvezza meritata, ma direi che forse dobbiamo sperare qualcosa di più. Andiamo in seconda al prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.